E' un personaggio talmente straordinario che sarebbero tanti gli aggettivi per definirlo ma lo faremo questa sera con nome e cognome E' con noi Angelo Branduardi E' con noi Angelo Branduardi Frate Francesco parte una volta per oltre mare fino alle terre di Babilonia a predicare con i suoi compagni sulla via dei Saraccini furono presi e bastonati i poverini Frate Francesco parlò e ve ne predicò che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò lo liberò dalle catene così Francesco partì per Babilonia a predicare Frate Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare bello il suo volto ma velenoso il suo cuore con il suo corpo lo invitava a peccare Frate Francesco parlò con te io peccherò nel fuoco si distese le braccia le protese lei si pentì si convertì così Francesco partì per Babilonia a predicare bello il suo lavoro l'innovabilonia a predicare maлив shorter con te io peccherò cuore l'unno 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 foco si ti senti foco si frate cuore frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco si fermò per riposare, e una donna gli si volle avvicinare, bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io piccherò, nel fuoco si distese, le braccia le cortese, e si pentì, si convertì, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Grazie a tutti!